La prova finale dei campionati della gioventù italiana dell'Vittorio a Dobbiaco. La spettacolare corsa della staffetta dei 18 chilometri, alla quale hanno partecipato 75 squadre rappresentanti altrettante province e che si è conclusa con la vittoria della squadra di Aosta che ha coperto il percorso in un'ora, 5 primi, 2 secondi e 3 quinti. La spettacolare corsa della gioventù italiana dell'Vittorio a Dobbiaco.